ciao a tutti e benvenuti in questa fredda mattino calda mattina dell'esc allora due parole su questo progetto che si è nato all'interno di nato diciamo come ideazione di beatrice ed è stato realizzato utilizzando anche infrastruttura diciamo attrezzi di mittelab due parole riguardo al mittelab mittelab è l'acrespace di trieste quindi un posto fisico dove appassionati di informatica elettronica tecnologie in generale possono incontrarsi e collaborare sui propri progetti utilizzando anche infrastruttura diciamo comune l'idea è creare una specie di garage comunitario dove chiunque può passare da un'idea a realtà appunto questo è proprio un esempio di questo progetto qui che è nato come idea di beatrice ed è stato poi portato nella realtà è anche studiato ma lasciamo subito la parola a l'ideatrice quindi beatrice a te la parola accolta anche con la rima buongiorno a tutti e grazie e allora vando alle ciance andiamo diretti allora una mini introduzione perché molto spesso si va diretti al punto ma manca un minimo di introduzione allora come sapete tutti ed è ovvio la matematica le abilità matematiche in generale sono indispensabili nella vita quotidiana basta pensare solo al fare la spesa nonostante ciò qui sono andata a ricercare i dati di quest'anno che non sono molto positivi dalle analisi dalle invalsi insomma di quest'anno è venuto fuori che solo il 63 per cento degli studenti della primaria quindi degli elementari raggiungono un livello base in matematica cioè vuol dire che il 37 per cento ha delle difficoltà quindi risulta essere cruciale sviluppare potenziare le abilità matematiche dei bambini già dalle elementari allora magical magical appunto è un progetto nato con l'idea del dare a disposizione dare al bambino uno strumento in grado di aiutarlo nel calcolo ma anche di giocare un po con la matematica nessuno studio infatti aveva verificato l'efficacia di uno strumento che permette di esercitarsi integrare contemporaneamente ben tre rappresentazioni non simbolica simbolica e tattile con non simbolica si intende ad esempio come vedete qua sono dei dots quindi dei pallini oppure una rappresentazione quantitativa oggettiva del numero rappresentazione simbolica invece ad esempio è il numero arabico e c'è la rappresentazione tattile con rappresentazione appunto non simbolica qui ho riportato la linea dei numeri di bortolato che poi viene anche ripresa all'interno della calcolatrice ed è una linea che contiene 20 tacchette divise di distanziate di 5 in 5 con colori diversi per gruppi di 10 e si è notato da alcuni studi che potenziare proprio questa rappresentazione porta ad un miglioramento nel calcolo mentale nel calcolo scritto portando a potenziare quella che è la discriminazione delle piccole quantità che già è nato nel bambino con rappresentazione simbolica appunto si intende la rappresentazione dei numeri arabi e in questo caso con la calcolatrice magico l'abbiamo utilizzato easy reading che è un font realizzato appositamente per coloro che hanno delle difficoltà nella lettura e la rappresentazione tattile gestuale ovvero si è notato da alcuni studi che i gesti con le mani sono fondamentali nello sviluppo del pensiero e riducono il carico cognitivo anche nel calcolo e inoltre in questo caso nella calcolatrice l'abbiamo utilizzato per collegare un po' quello che è la rappresentazione simbolica quindi astratta con la rappresentazione quantitativa non simbolica nello specifico questa è una schermata della composizione del numero infatti potete vedere che qua c'è una rappresentazione simbolica la rappresentazione non simbolica che viene mantenuta questa immagine nello specifico fino al numero 20 poi dal 21 si passa ai dots e poi appunto la rappresentazione quantitativa tattile ovvero il numero viene composto con dei tap a destra o a sinistra in base al numero che voglio comporre però è più facile mostrarvelo anche con un video che vi faremo vedere successivamente grazie Beatrice per la parte un po' più tecnica l'oggetto è stato realizzato con un kit commerciale che si chiama Core 2 della M5 Stack ed è basato intorno a un ESP32 ha tutto un insieme di periferiche che sono diciamo atte a renderlo un oggetto stand alone quindi ha una batteria, ha già lui un accelerometro il problema era che l'accelerometro a bordo non supporta il tap detection quindi ci avrebbe obbligato a scrivere del software che fa il tap detection e deve girare spesso diciamo sul Core la libreria che vedremo poi nella parte di software LVGL consumava già un bel po' di CPU semplicemente renderizzando la schermata quindi abbiamo cercato un po' di soluzioni abbiamo trovato l'accelerometro dell'SM6DS3 che ha sia il tap detection sia l'orientation detect che ci serve per capire quale operazione è stata selezionata dopodiché intorno a questo oggetto abbiamo costruito un case in legno perché la parte di legno è comunque interessante da un punto di vista tattile stimola per la questione dell'insegnamento di Montessori stimola un pochino i sensi dei bambini e quindi abbiamo scelto questa rappresentazione qui per la parte di software ho scelto di usare ESP-DF che è il framework principale per sviluppare su ESP32 con la differenza che ho utilizzato C++ in quanto è un ottimo modo per avere delle astrazioni le astrazioni necessarie per creare delle macchine a stati per gestire il tutto in maniera semplice in grosso modo ogni schermata è uno stato diverso le transazioni tra uno stato e l'altro quindi tra una schermata e l'altra sono causate da eventi che vengono collezionati in una coda e poi processati in maniera sincrona quindi eventi sia di cambio di direzione sia di tap oppure di pressione dei pulsanti touch quindi qui ho usato pesantemente Steady Variant è il polimorfismo statico quindi per evitare di pagare il prezzo di avere polimorfismo dinamico su una CPU embedded per quanto riguarda la libreria grafica abbiamo scelto LVGL perché è piuttosto semplice da integrare abbiamo dovuto però fare un componente custom per la rappresentazione visiva del numero che è stato un po' un'avventura nel senso che loro non documentano esplicitamente come creare un componente custom quindi tu devi prenderne uno simile e modificarlo, copiarlo e modificarlo in modo che poi faccia la cosa giusta il ciclo è sempre quello insomma il componente ha uno stato ha una funzione di render LVGL è scritta in C quindi diciamo c'è stato un piccolo piccolo wrapper creato intorno e basta insomma tutto sommato è stato abbastanza easy quello che vedete in basso è il diagramma di tutti gli stati della calcattrice che come vedete sono pochi relativamente facilmente numerabili e questo è più o meno tutto per la parte tecnica adesso vediamo se riusciamo a vedere il video di funzionamento se vuoi commentarlo tu Beatrice Allora appunto in realtà è prima più facile vederlo poi ve lo commento le decine vengono generate facendo dei tap sulla sinistra mentre le unità con dei tap a destra le operazioni vengono selezionate con la rotazione della calcolatrice quindi una rotazione in avanti per la somma quindi per l'addizione verso di sé per la sottrazione poi in realtà queste sono quelle che sono state testate anche nello studio mentre la moltiplicazione e divisione sono rimaste ancora un attimo in stand by e poi si ruota di 180 gradi la calcolatrice fino ad arrivare alla frase non è magia per poi ottenere un risultato dinamico che mi permetto di mostrarvi nuovamente un risultato dinamico che mostra non solo l'operazione in termini aritmetici arabici ma anche proprio una rappresentazione quantitativa dinamica qua quindi con l'aumento di 10 pallini perché abbiamo fatto 11 più 10 allora lo scopo dello studio principalmente era quello di sviluppare il conteggio quindi di migliorare le abilità matematiche del bambino e in realtà anche nel ridurre l'ansia scolastica e l'ansia matematica cercando di utilizzare un po' tutti gli aspetti principali quindi l'aspetto gestuale che veniva visto come un gioco quindi proprio per cercare di ridurre l'ansia il campione in realtà era di 31 bambini poi effettivamente validi solo 29 ed è stato testato in una classe di seconda primaria cioè in varie classi di seconda primaria allora cosa si è riscontrato? sempre ovviamente conclusioni significative dello studio questo ovviamente non implica che non ci siano stati dei risultati non significativi e che non ci siano delle limitazioni ovviamente ci sono Magical ha mostrato che a seguito di un training di otto sessioni fatta con questa ha portato ad un miglioramento nella fluenza del calcolo e del calcolo scritto con fluenza del calcolo si intende la rapidità con cui una determinata operazione viene svolta e di conseguenza anche la correttezza e la rappresentazione non simbolica e quella numerica ha portato la continua correlazione fra queste due ha portato il bambino in realtà ad avere una maggiore comprensione della distinzione fra addizione e sottrazione che è non sempre così chiara in seconda elementare e probabilmente anche grazie appunto alla combinazione della rotazione della visualizzazione del simbolo dell'operazione e della rappresentazione dinamica quindi aumento e diminuzione dei pallini la gestualità appunto permette il bambino di concentrarsi su ogni singolo elemento quindi la gestualità della composizione della decina dell'unità è comunque un elemento molto importante che permette al bambino di focalizzarsi su ogni singolo step è stato utilizzato in realtà come uno strumento per autocorreggersi e non come strumento per svolgere il calcolo perché devono imparare comunque a svolgere le operazioni matematiche ma devono sentirsi sicuri di potersi correggere senza alcuna difficoltà e come limitazioni e come effettivamente dati non risultati che non hanno rispecchiato le ipotesi iniziali ci sono sicuramente la problematica del non aver ottenuto un risultato significativo nella grandezza del numero quindi il bambino era in grado comunque di capire già in partenza qual era la differenza se un numero era più grande o meno grande rispetto a una stringa di numeri e inoltre relativamente all'ansia siccome sono stati fatti troppi pochi incontri non si è riscontrato nulla però vi posso solo dire che i bambini mi venivano a dire maestra maestra ma posso giocare con la calcolatrice a ricreazione va bene va bene maestra sai che 50 più 50 fa 100 e ridevano oppure mi vedevano maestra ma vero che è la calcolatrice vero che ce l'hai eh sì 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 matematica devo dire che quella è stata una soddisfazione personale anche se non è venuto fuori appunto la significatività più avanti con ulteriori studi si potrebbe appunto fare un training più lungo e molto probabilmente almeno vedendoli sicuramente ci sarebbe una riduzione dell'ansia grazie a tutti grazie mille allora come al solito chiediamo se ci sono domande dal pubblico una domanda aspetta che arrivi al microfono così passare da quella parte non ho capito una cosa l'inserimento del numero è un qualcosa di guidato cioè ogni volta ti propone delle operazioni su dove poi tu devi indovinare il risultato o si può anche inserire proprio con una calcolatrice il numero no no è proprio una vera ups è una vera e propria calcolatrice quindi l'inizio è vuoto e poi sei tu a comporre il numero quindi torno indietro sulle slide così vi mostro in realtà qui ho preso ad esempio questa è la schermata iniziale ok quindi da qui io decido quale numero comporre in questo caso ho deciso di comporre il numero 11 in questo nello specifico siccome lo schermo è molto piccolo siamo rimasti all'interno del numero 100 quindi all'interno del numero 100 puoi fare tutte le operazioni e addizioni e sottrazioni che vuoi quindi poi vado a comporre l'operazione facendo appunto etapa a sinistra per le decine etapa a destra per le unità la rotazione per selezionare l'operazione e poi il risultato spero di aver risposto ok ciao complimenti questo penso che sia solo l'inizio quindi sì qual è il prossimo progetto orca qual è il prossimo progetto allora sicuramente guardo qua guardo qua quello che io progetto lui fa e mi pare giusto sicuramente quello di testare anche fare studi relativamente alla moltiplicazione e la divisione cercare uno schermo più grande un dispositivo che abbia uno schermo più grande per permettere anche di avere numeri maggiori di 100 perché siamo comunque su numeri piccoli e direi per ora questo è già un step avanzato e poi chissà ci sono varie potenzialità di questo strumento anche solo l'M5 stack il fatto che abbia un microfono il fatto che abbia uno speaker potrebbe avere delle ottime funzionalità appunto per ad esempio bambini che hanno delle difficoltà proprio nella lettura oppure che hanno difficoltà nel anche solo bambini non vedenti quindi comunque riuscire a fare dei calcoli utilizzando l'audio e utilizzando le rotazioni a te ciao volevo chiedere se ci sono piani di ampliare lo studio o di effettuare ulteriori insomma acquisizioni di dati con un N maggiore insomma per verificare l'efficacia allora sì sicuramente appunto una delle limitazioni proprio l'N molto piccolo diciamo che per una tesi di laurea è più che sufficiente però appunto era solo uno studio iniziale sì decisamente sì con la mia relatrice ci ho parlato alla fine anche ad altri eventi il fatto di portarla mi porta ad avere dei collegamenti con con docenti e dirigenti che mi guardano e mi dicono però sarebbe carino se riuscisse a testarlo anche da noi io non rifiuto e quindi sicuramente l'idea è quella di continuare a testarlo perché se mai in un futuro si riuscisse ad avere insomma in giro per le scuole vorrei che fosse uno strumento verificato testato e non uno strumento in più che viene messo sul mercato tanto per ciao ma c'è anche una modalità quiz nel senso ti dice l'operazione devi inserire il risultato magari ti conta la sequenza però ne fate giusto cinque di fila allora in realtà no però avevo avevamo inizialmente ipotizzato anche uno strumento esterno ad esempio adesso mi guarderà malissimo ma tipo un sito web o comunque un'applicazione che ti permettesse di fare del proprio botta e risposta se non sbaglio anche il bluetooth anche il bluetooth e wifi quindi comunque riuscire ad utilizzare due dispositivi proprio per la verifica di perché alla fine dei conti può essere un buon meccanismo anche per per esercitarsi un po' con la calcolatrice quindi c'era l'ipotesi non abbiamo avuto il tempo effettivo per farlo però sì quattro mesi nel tempo libero per farlo quindi però sì assolutamente sicuramente è una cosa che deve essere fatta perché ti aiuta ed è un supporto in più bene allora grazie mille a Beatrice e a Liace per aver condiviso la vostra esperienza e conoscenza qui a Land Summer Camp un applauso grazie a tutti